Era sparita nella notte tra il 14 e il 15 maggio dal museo di Cerveteri, un furto ripreso dalle telecamere di sicurezza le cui immagini avevano fatto il giro del mondo. La sfingelata di epoca etrusca rubata da tre ladri muniti di carrello è stata recuperata dai finanzieri del comando provinciale di Roma in un campo sulla via braccianese a nord della capitale. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Roma, gruppo tutela patrimonio archeologico, durante una ricognizione nella zona hanno notato una scultura in travertino abbandonata vicino a un edificio rurale. Era proprio la sfingelata rubata dalla necropoli di Cerveteri tra i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Un'equip specializzata della soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale ha confermato che si trattava della statua del IV secolo a.C. Era nascosta in attesa di essere trasportata all'estero per essere venduta al mercato clandestino di oggetti d'arte antica. L'opera era già stata rubata nel 1972 dal complesso funerario rupestre di Greppe di Sant'Angelo nel lacro di Cerveteri ma era stata recuperata dalle fiamme gialle. In attesa di riportarla alle condizioni originarie perché danneggiata sarà mostrata in anteprima di nuovo al pubblico in occasione della rassegna giornate europee del patrimonio 2014 presso il Museo Nazionale Cerite di Cerveteri nella notte tra il 20 e il 21 settembre.